Siamo al lago, sul lago Maggiore. Cari amici, siamo sul lago Maggiore, naturalmente a goderci un'asso di pace e tranquillità, un po' di tempo per noi, per Mauri a goderci una giornata fantastica. Siamo, come vedete, qui cari amici, a goderci la giornata, benissimo, qua con le nostre cose, bene. Cari amici, siamo qui sul lago Maggiore, a Gerdiniaga, a Filo. La prima giornata sono passata questa settimana dal precedente video, adesso siamo al 5 di agosto 2018, una domenica. Nella regione di Super Mauri, capitano Barbatura, e siamo qua, sul lago Maggiore, a goderci un po' anche noi, perfettamente l'asso, però abbiamo andato il posto, e per delle situazioni particolari, per me stai amare, io ve lo consiglio, Gerdiniaga, Gerdiniaga vicino a Luì, la punta di Luarese, passata dal Monnierà, لو entromano il lago Maggiore, perché sono a sfiori e allora non abbiamo trovato cosa senzaΙ, veramente e se il centro è calmo? Se è caldo, quando siamo Здora, cioè sono delle correnti, adesso non è tresa che sonoerto, che viene dal lago Genugano, quindi dal lago Genugano, parte dal lago Genugano, Abbiamo una corrente d'acqua fredda, che rispetto alla propria calda, allora già sotto viene l'acqua calda. Anche per le correnti, acqua calda, anche per la disposizione, proprio il sole dalla parte, praticamente viene almeno del mattino, non prende più il sole che fa spiaggia. Come succede? Si viene a bruciarsi un attimo dopo. Allora, all'inizio, prenda, è sicuro che viene caldo, perché si fa il sole che dà questa... e poi... quindi, dopo quando si fa, e poi anche che faccia che... diciamo così la frugge, del volto di ruino, quindi prende quella strana lì per il mattino qui. E' quella che fa questo carro, quella lì... e io... E' quella che fa questo carro, quella lì... E' quella che fa questo carro, quella lì... E' quella che fa questo carro, quella lì... Beh, ce l'artene, abbiamo un po' di più. E' quella che si fa esci opere, questo è quello che ha esclunto qui, e' uguale, il volto di nuovo. E' quello che è molto, che è pronto il velo, perché è un po' di più, è un po' di più. E' uno, anche il dove sia l'artene. E' tutti, perché non c'è un po' di più... E' uno, anche lì a quello che mi piaccia, un po' di più, è un po' di più... E' una quella che ora può essere, anche un po' di più... Ife, un po' di più. E cari amici, sono passate due settimane e siamo ancora qui a Germiniaga, a Luino e benissimo Oggi è il 19 agosto 2018, prima c'era un gran soleone, c'era il grande sole, poi è passata la giornata, noi ci siamo divertiti un po' così Io, gli amici, è benissimo, quindi Gennaro Dolmini e youtuber Mauri Capitano Barbadura, insieme agli amici siamo ancora qua a Germiniaga Adesso è venuta un po' di nuvole, però siamo ancora qua, oggi c'era un gran bel sole Come avete visto poi nell'inizio del giro di due settimane fa, che poi rimetterà tutto insieme, benissimo Facciamo ancora un po' di bagno di lago, di lago maggiore, come fosse un po' del mare, andiamo, vado Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. I sassi incredibili, cari amici. Io invece ho messo i sabattini. Ma è bello, fanno bene alla salute perché stimolano, massaggiano sia i sassi sia le onde. I sassi e le onde ci vogliono, però sono incredibili. Benissimo, Gennaro Dolmini di Supermau di Capitano Barbatura. Prendiamo un po' di vacanza anche noi. Allora, oggi è il 19 agosto, domenica. Benissimo, cari amici. Noi insieme ad altri amici, siamo venuti qua in spiaggia. Bene. Ciao, ciao, presto. Ciao, ciao. Cari amici, le occhette sul lago. E cari amici, dal lago Maggiore, è una bellissima giornata. Siamo venuti qua, ci siamo divertiti tanto.